L'istituto comprensivo è la scuola capofila della rete Festa del Libro, nona edizione. È una rete che abbiamo detto coinvolge 11 scuole e poi si avvale del supporto di associazioni dell'ente locale. Nasce dall'idea di un gruppo di insegnanti dell'allora circolo didattico Santa Chiara, un sogno che poi è diventato realtà e si è man mano accresciuto. Un sogno che è quello proprio di vedere i bambini catturati da questo strumento meraviglioso che è il libro, che diventa cibo per la mente, che diventa un modo per accrescere la loro creatività, uno strumento di espressione importante in questa fascia di età perché da queste capacità si sviluppano molte altre capacità dei ragazzi e si apre la strada all'apprendimento anche di discipline a carattere scientifico. È una festa che in nove anni è cresciuta quasi autoalimentandosi, che è cresciuta grazie ad un tam-tam tra scuole, tra genitori, tra alunni. Il bilancio è più che positivo perché è stata una settimana di movimento, una settimana di animazione anche a livello territoriale perché attorno a questa festa si è attivata l'intera comunità, quindi non è diventata più la festa solo delle scuole e degli alunni, ma è diventata la festa di tutti. Abbiamo avuto moltissime iniziative che hanno avuto un enorme successo e addirittura abbiamo avuto anche richieste da parte di altre scuole per il prossimo anno, per la prossima edizione. Per quello che mi riguarda vedere la scuola così viva, vedere un continuo andi rivieni di ragazzi di ogni fascia d'età, vedere attivare lo scambio fra i docenti e i genitori di diverse scuole e anche fra la scuola e il territorio è una cosa meravigliosa perché ci rendiamo conto che l'attività della scuola non nasce e muore dentro le mura della scuola stessa, ma come è giusto che sia diventa obiettivo e strumento di crescita di un'intera comunità. Abbiamo avuto il sopporto anche dell'ente locale che ringrazio, che è particolarmente sensibile all'attività formativa delle scuole ed è a tutti gli effetti un nostro partner. Siamo stati in tanti, siamo cresciuti tanto in questi nove anni, vediamo che c'è ancora voglia di crescere insieme, di rivederci e quindi in questa prospettiva, con questo entusiasmo che è poi l'entusiasmo che si addice ad una festa, vi aspettiamo per la decima edizione per festeggiare insieme il decimo compleanno della festa del libro. Arrivederci! Grazie a tutti!